Doraemon, Doraemon, Dora, Doraemon Io conosco un grosso gatto, sempre allegro e soddisfatto, con la testa rotondissima È davvero intelligente, furbo e sorridente Doraemon, The Cat Chi lo sa come fa a cambiare realtà, ma qua e là quando e come gli va? Doraemon, d'acqua a ciubola sulla, nel cielo più blu, col suo copter di bambù Doraemon, 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 che gatto spaziale Solo tu ci regali, dei gadget speciali Ma chi sa come mai, quando poi ce li dai, siamo sempre in mezzo a mille guai Doraemon, 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 sei il gatto ideale Ma il tuo mini padrone è un vero pigrone Sai già che dormirà, mentre lo sveglierà E perciò in ritardo arriverà Doraemon, Doraemon Il controlla muscoli Non è un modellino fantastico, l'ha costruito mio cugino Credo che poi ha deciso di regalarmelo per Natale, forte vero ? E' bellissimo Suneo Sarà meglio che me ne vada Pazzesco, non capisco perché Suneo non mi lascia mai toccare i suoi giochi Niente, è solo un cane Ma cammina su due zampe Non è possibile, sto sognando Aiuto, mi segue Doraemon, aiuta, dove sei ? Doraemon Che spavento, chissà perché quello strano cane mi seguiva No, non ci credo come ho fatto entrare in casa Ah, sei tornato Hai comprato tutto, grazie Bravo, ecco il salsicciotto che ti avevo promesso Doraemon, che cosa hai fatto a quel cane ? Niente, l'ho soltanto mandato a fare una commissione per me Si, questo l'ho capito anch'io Ma ho visto che se ne andava in giro camminando su due zappe Vuoi sapere come ci sono riuscito ? Semplice, ho usato questo congegno, si chiama controlla muscoli E che cos'è ? Dunque, è un dispositivo che stimola il sistema nervoso centrale degli animali E controlla i movimenti muscolari Vabbè, lasciamo stare le spiegazioni scientifiche In parole povere, è una specie di telecomando per animali Caspita, l'idea mi sembra interessante Sono proprio curioso, lo sai ? Mi faresti vedere come si usa ? Naturalmente Per prima cosa dobbiamo trovare una cavia Ah, perfetto, credo di aver trovato il soggetto che fa il caso nostro Cosa ? No, no, la mamma no, ci vuole un animale Sei un testone, perché non mi ascolti mai ? Su, rilassati, fammi vedere come funziona Allora, se spingi questa leva, il soggetto alza il braccio destro Se la rimetti come prima, non riapparsa Può anche grattarsi la testa se vuoi Ragazzi, che divertente, ci provo subito Come faccio a farla alzare ? Muovi la leva al centro molto lentamente, è chiaro ? Si è alzato in piedi, urrà ! E dimmi, come faccio a farla camminare ? Devi muovere su e giù alternativamente la leva di destra e quella di sinistra, con calma Ok, alza la gamba destra, abbassala, alzala di nuovo Non è una bambola Bene, adesso la gamba sinistra Oh no, come ho fatto a cadere ? È tutto a posto, stai bene ? No, per vostra, mi sbaglio Aiuto, scappiamo Mi dispiace, io non volevo farla cadere Per questo ti avevo detto di non usarla sulla mamma, ma tu non mi dai mai ascolto Vabbè, ma allora ti posso scegliere, scusa Ehi, Doraemon, cosa ne pensi di quel gatto che è sul teatro ? Posso provare a chiederglielo se vuoi Ah, scusa amico, ti va di fare un esperimento con noi ? Miau, 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 miau Miau, 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 miau Ma che avido e incontentabile Perché, che ti ha detto di preciso ? Ti accetta di fare il gatto telecomandato se gli offriamo dieci cene a base di pesce fresco Ma che pretese Alla fine ci siamo accordati per una manciata di alici affumicati Beh, così va meglio Allora, bello, se hai finito possiamo cominciare ? Miau Miau Perfetto, e ora cammina, vai Vedrai, una volta che ci hai preso un po' la mano sarà ancora più facile Ah, che bello Miau, 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 miau Ehi, è fortissimo Guarda, c'è Suneo Ciao Che ti prende, Suneo? Come mai quella riabbattuta? Adora, Emma Mi dici cosa è accaduto? Perché stai piangendo? Sono distrutto, è successa una cosa tremenda E ora un'ultima evoluzione, guardate Bene, bene, vedo che hai un bellissimo gioco nuovo, Suneo Dai, forza, fammelo provare Come no, lo tengo solo un minuto Certo che se fossi un amico non faresti tutte queste storie Va bene, va bene, prendilo, però non tenerlo troppo, intesi? Alla finita, decido io per quanto tempo posso tenere un gioco Non so se mi sono spiegato D'accordo, ho capito E così ha portato il mio modellino a casa sua Potete aiutarmi, per favore, a recuperarlo Non sarà facile trattandosi di Gian Tra l'altro la docodiamo porta si è guastata Vi prego, fate qualcosa importante per me Che idea! Useremo quel micione! Non credo di capire Lascia fare a noi Miau, miau, miau Miau, miau, miau Che gli hai detto, Doraemon? Ho promesso di procurargli dell'altro pesce se ci darà una mano Forza, sì, parte! Che cosa gli prende? Dove sta andando? Vedi, Suneo, quello è un gatto telecomandato Ah, ci vuole anche questo! Così potremo sempre tenerlo sotto controllo Sta per incontrare Shizuka Poverino, avete visto che faccia fatto? Arrivo! Ma chi sarà a quest'ora? Ma qui non c'è nessuno Eppure avevo sentito il campanello Ecco il mio modellino, prendilo Nobita Ora ci penso io Ehi, tu! No, chi viene se ne accorto? Presto fa qualcosa Nobita Attaccia, senti Nobita Attaccare il mio gioco Come il suo gioco? Quell'elicottero è mio, se l'ha dimenticato E noi glielo porteremo via, non preoccuparti Miau Tieni duro, Nobita Certo, lascia fare a me Miau Attento, non farti prendere Nobita Insomma, si può sapere Perché poi quell'elicottero Bruttava in piaccia Allora, cos'è tutto questo baccano, eh? E guarda che disastro è combinato Vergogna Urra! Il mio elicottero è viva! Si, si è ne compiuta, ce l'ho fatta! Bravo, bel lavoro Ecco il pesce che ti avevo promesso Spero soltanto che non si sia guastato niente Meno male, funziona perfettamente Me lo faresti provare Sai usarlo? Che domande? Non sono stato io a guidare il gatto telecomandato poco fa Soltanto un minutino, eh? Ragazzi, com'è divertente! Adesso basta però Nobitarità, me lo so Oh no, no, che succede? Si è bloccato! Ma che fai? Dall'altro parlo! No! No! John! Ah, che bravo, ti sei ripreso il tuo elicottero Colpa di Nobita, io non ce l'ho E ci resta con lui a mandare quel gattaccio in camera mia? Grandioso, li ho fatti imbestialire tutti e due Oh mamma, e ora come facciamo a tornare a casa? Ciao, ciao Nobita, come va? Ah, bene, grazie, e lei? Hai già finito di fare i compiti per domani? Che idea! Tieni, col maestro accanto a noi siamo salvi Bravo, hai avuto una trovata geniale Che riesco a mettere le mani su Nobita, lo rompo una volta per tutte, vedrai Dovrà pagare per tutti i danni che ci ha causato E con lui? C'è anche il maestro! Maestro? Così non posso picchiarlo Che furbo! Questa me la paga, caro! Non la passi liscia, buttate, vieni qui! Missione compiuta! È il momento